e ora posso dare ufficialmente a tutti il benvenuto a questa sessione. Come vedete è una sessione sulla sicurezza, però non è una sessione, benché sia una sessione diciamo così orientata a Windows Server, non è una sessione solo della sicurezza, dedicata alla sicurezza di Windows Server, ma è dedicata a tutta l'infrastruttura compresi i PC client, perché per costruire una piattaforma sicura si deve lavorare in maniera integrata, non si può pensare di farlo in maniera diciamo distinta e separata. Per partire da questo discorso di sicurezza bisogna ovviamente considerare tutti gli aspetti di contorno e uno degli aspetti di contorno principali è l'evoluzione delle minacce che possono essere portate alla rete aziendale oggi. Come vedete qui io ho scelto un po' dei nomi che purtroppo sono tristemente famosi perché li vediamo succedere presso i nostri clienti in cui gli attacchi informatici sono ormai all'ordine del giorno. Sono attacchi che possono essere portati direttamente alle macchine, ad esempio con il malware oppure con i tentativi di denial of service, quella sigla DOS che vedete in mezzo. Possono essere portati alle persone, quindi attacchi di tipo phishing, dove le persone vengono tratte in inganno e rivelano loro stessi le loro credenziali o altre informazioni personali che poi possono essere usate dagli aggressori. Oppure possono essere portate a una rete, ad esempio compromettendo una delle macchine della rete magari poi gli aggressori possono diffondersi all'interno della rete stessa e quindi creare una sorta di botnet, come viene chiamata, bot è il diminutivo di robot, dove le macchine cominciano ad agire in maniera malevola sulla scorta di quello che viene richiesto dall'aggressore. Quello a cui può portare tutto questo è normalmente un furto di dati. Il furto di dati, come sapete, soprattutto se riguarda i dati personali, è, diciamo così, rilevante anche dal punto di vista della legge perché, per esempio, il GDPR richiede che il furto di dati venga denunciato e venga denunciato anche molto in fretta entro 72 ore da quando lo si scopri. Se tutto questo è vero, cioè se le minacce sono diventate cose evolute, ecco che allora noi dobbiamo cercare di proteggerci. Come ci proteggiamo? Storicamente abbiamo usato degli strumenti che, diciamo, avevano una protezione di tipo abbastanza statico, come l'antivirus. È vero che l'antivirus si aggiorna molto frequentemente, però tende a contrastare una minaccia quando la minaccia arriva o sulla macchina o all'interno della nostra rete e viene individuata prima ancora che, purtroppo, tenti di portare danni. Oppure il firewall. Il firewall invece è pensato per prevenire sostanzialmente, cioè tiene fuori quelli che devono star fuori e dentro quelli che invece devono essere protetti. Però queste sono misure che, diciamo così, ormai non sono più sufficienti per garantire una buona protezione dei dati. Ed ecco che allora si deve entrare più in un contesto dinamico. Nel contesto dinamico vediamo gli aggiornamenti delle macchine, le patch. Questa è la misura principale che bisogna portare avanti, ovviamente senza trascurare le altre. Perché? Perché le vulnerabilità vengono scoperte continuamente e una volta scoperte vengono risolte, fissate attraverso gli aggiornamenti che le piattaforme di sistema, piuttosto che gli applicativi, eccetera, eccetera, vengono rilasciati periodicamente e queste consentono di eliminare il rischio di poter essere aggrediti attraverso una vulnerabilità nota. In più bisogna tenere particolarmente sotto controllo l'utilizzo delle credenziali da parte degli utenti. Gli utenti diventano oggi forse l'anello della catena che è più debole in termini di sicurezza. Ed è il motivo per cui credenziali deboli e facilmente indovinabili sono il punto più, diciamo, critico della protezione di una rete informatica. Avrete sentito parlare di approcci cosiddetti passwordless, cioè privilegiare metodi di autenticazione diversa dalle credenziali, piuttosto che zero trust, cioè non fidarsi di nessun dispositivo, anche di quelli che fanno parte della rete aziendale, perché potrebbero essere stati compromessi. Ecco, questi sono proprio due dei metodi che vengono utilizzati per proteggersi anche sul fronte dell'identità elettronica. E poi la crittografia come misura per proteggere le informazioni quando sono memorizzate sia su uno storage, quindi su un dispositivo qualsiasi, che sia il pc, il telefono, il tablet, una chiavetta usb, eccetera, ma anche quando sono in transito, quindi proteggendo le comunicazioni che avvengono tra le varie macchine. Come si fa a proteggersi oggi? Ecco, bisogna agire su vari fronti, bisogna mettere in atto quella che viene chiamata una difesa di tipo multilivello, quindi bisogna lavorare sui dispositivi, avete visto dall'animazione che ad esempio bisogna tentare di utilizzare solo hardware di tipo trusted. Trusted cosa vuol dire? Vuol dire che l'integrità della macchina è garantita dall'hardware fino al sistema operativo. Bisogna lavorare per avere delle identità sicure e qui lo strumento principale sarà la multifactor authentication. Bisogna lavorare per mantenere informazioni sicure, in questo caso la criptografia, a tutti i livelli, come abbiamo già esposto nella slide precedente, e bisogna aumentare la capacità di resistere a una qualsiasi minaccia, portata sia dall'esterno che dall'interno della rete. Come vedrete in molte delle slide che sto utilizzando, in calce ci sono dei link che potete utilizzare poi per approfondire l'argomento che viene trattato da ciascuna delle slide. In questo caso, come vedete, parliamo della security baseline, cioè in pratica di un'impostazione generica, ma anche generalizzata, più che generica, della piattaforma per garantire un livello minimo di sicurezza. Lo definirei lo zoccolo duro della sicurezza. Anche la parte di, diciamo così, risposta deve essere deve essere aggiornata, perché purtroppo qui qualche tempo fa, un paio d'anni fa credo, forse anche tre, c'era una slide che usavo spesso, soprattutto quando ancora ci si poteva vedere in faccia e fare gli eventi di persone invece che solo come webinar, era una slide che citava una frase dell'allora direttore dell'FBI, il quale diceva che esistono solo due tipi di aziende, quelle che sono state compromesse quindi da un aggressore informatico e lo sanno, e quelle che sono già state compromesse da un aggressore informatico ma non lo sanno. Quindi è una visione molto pessimistica del mondo, però diciamo che non è proprio così avulsa dalla realtà. Ebbene, le capacità di risposta sono, credo, uno degli elementi più importanti che noi possiamo mettere in atto. E Microsoft, da questo punto di vista, ha elaborato una strategia a quattro livelli per poter appunto sopravvivere adeguatamente in un contesto altamente non sicuro. Il primo livello è quello di proteggere, è la prevenzione, è quello che abbiamo sempre fatto, il firewall piuttosto che l'antivirus, insomma mettere la piattaforma in condizioni di non essere esposta a rischi diciamo particolarmente banali di essere compromessi. Il secondo punto però diventa molto importante, rilevare, cioè ogni tentativo che può essere portato in talmente tanti modi diversi ormai da non poterli elencare tutti facilmente deve essere tenuta sempre sotto controllo. Qui gli strumenti invece diventano un po' più sofisticati perché si parla di raccolta dei log, di audit, di controllo del funzionamento degli strumenti eccetera eccetera eccetera. Questo perché? Perché se veniamo attaccati lo dobbiamo scoprire nel più breve tempo possibile in modo da poter organizzare una difesa adeguata. E come ci si difende? Ci si difende con i punti 3 e 4, isolando e quindi creando un'area di isolamento per le risorse compromesse ma soprattutto rispondendo all'attacco. La risposta all'attacco può essere chiudere diciamo così la breccia da cui possono essere entrati gli aggressori, può essere quella di andare a vedere l'entità del danno e l'estensione del danno portata alle varie risorse della rete, che cosa è stato compromesso, che cosa no e così via. Ovviamente nel tentativo di ripristinare nel più breve tempo possibile il funzionamento di tutta la piattaforma, di tutti i sistemi informativi. Questo è fondamentale e siccome, come dicevo all'inizio, non si può lavorare in modo statico, la sicurezza va considerata come un principio a cui ispirarsi continuativamente mentre si sta gestendo un qualunque sistema informatico. Va considerata all'inizio quando lo si progetta e poi non va mai trascurata durante la vita del progetto stesso. Parlavamo di difesa a più livelli, l'abbiamo citato per quanto riguarda la strategia che Microsoft ha adottato, proviamo a vedere sul campo come si proteggono le nostre risorse informatiche. Allora, quello che vedete è uno schema che avete probabilmente già visto, perché veniva usato nelle presentazioni relative a Windows 10, ma credo che sia ancora molto attuale e vedremo che getta un ponte anche nei confronti della protezione di Windows Server, a cui è dedicata la slide successiva. Comunque, andiamo con ordine. Prima di tutto dobbiamo proteggere i dispositivi e vedete che abbiamo dei meccanismi che permettono di controllare l'integrità del dispositivo stesso. Potrebbe essere banalmente, che so io, il secure boot, cioè essere sicuri che il sistema operativo che viene eseguito su quella macchina è effettivamente quello autorizzato a farlo, piuttosto che impedisca dei tentativi di compromissione a basso livello dell'hardware stesso. Poi c'è la resistenza alle minacce e la resistenza alle minacce invece prevede un insieme di elementi che possono essere attivati per evitare che ci sia un percorso da parte dell'aggressore per riuscire a penetrare l'interno della nostra rete. Smart Screen è il nome del monitoraggio real-time di Windows Defender, quindi tutto ciò che viene eseguito viene prima controllato dall'antivirus in modo tale che non sia pericoloso. Il firewall l'abbiamo già citato, quando parliamo di Microsoft Edge parliamo dell'ultima versione del browser di Microsoft che contiene al suo interno un meccanismo di isolamento dei link che vengono richiamati e che consente di ottenere una maggior protezione da parte del sistema. Poi ci sono altre voci, come Defender, l'abbiamo già citato, è l'antivirus. Device Guard invece è un meccanismo che permette di controllare quali sono i codici, i programmi che sono in esecuzione sulla macchina e impedire che vengano eseguiti codici non autorizzati. Per quanto riguarda invece le identità elettroniche, citiamo sia Hello for Business, quindi l'utilizzo di credenziali non user ID e password tradizionali, ma di credenziali di tipo biometrico, che sono registrate solo sul PC, quindi lato client, e non vengono registrate da nessun'altra parte. Quindi da questo punto di vista ci mettono tranquilli anche per quanto riguarda le normative sulla privacy, eccetera, eccetera. Chi di voi usa un qualunque smartphone con l'impronta digitale piuttosto che il riconoscimento del viso, eccetera, sta usando un sistema di questo genere. Con il PC Microsoft ha reso possibile l'integrazione, non solo a livello di device, ma poi le credenziali protette attraverso, diciamo, il componente biometrico, possono essere usate anche per accedere alla rete e così via. Per quanto riguarda invece la protezione delle informazioni, vabbè, anche qui abbiamo BitLocker, abbiamo Windows Information Protection, BitLocker, lo sapete, e ce ne occuperemo più in dettaglio tra qualche minuto, BitLocker, lo sapete, è la cifratura del disco, quindi viene cifrato il disco prima ancora che parta il sistema operativo, e questo impedisce che chiunque venga in possesso di quel disco possa leggerlo da un'altra macchina e carpire le informazioni che ci sono registrate sopra. Mentre invece Windows Information Protection è una tecnica, una funzionalità che permette di scegliere a livello aziendale quali sono le informazioni aziendali che devono essere protette anche su un dispositivo che può ospitare informazioni tipo, chiamiamole promiscuo, personali e aziendali, e quindi determinare il ciclo di vita dell'informazione aziendale. Quello che invece è il riquadro grigio, vedete che la riga che sta sopra i riquadri dice pre-bridge, post-bridge, è quello che può succedere dopo che le informazioni o il dispositivo sono stati compromessi. Quindi è quello che succede quando l'attacco è già arrivato, è stato portato a termine con successo, ma noi vogliamo impedire il più possibile che faccia dei danni. E qui ci sono una serie di strumenti, come vedete Windows Defender ATP che sta per Advanced Threat Protection e il Conditional Access, che utilizzano dei servizi offerti da Microsoft attraverso i propri prodotti, strumenti disponibili anche in cloud. Per esempio il Conditional Access richiede che ci sia Azure AD come base per poter essere realizzato e Microsoft Intune come strumento di gestione centralizzato. Anche Defender ATP ha una console sul cloud ed è disponibile per quanto riguarda la piattaforma client solo con Windows 10 Enterprise e 5. Quindi se avete dei clienti che devono poter mettere in piedi una protezione di questo livello, dovete sapere che quello è il requisito per poterla attivare. Passando alle stesse voci, ma lato server, vedete che anche qui ripartiamo i meccanismi di protezione in credenziali amministrative e diciamo prevenzione del furto di dati a livello di rete aziendale e qui ci sono tutta una serie di sigle o di nomi che purtroppo non riusciamo a commentare tutti, alcuni sono uguali a quelle che abbiamo visto nella slide precedente perché come sapete il kernel di Windows Server e il kernel di Windows 10 sono la stessa cosa, anche se poi vengono configurati in maniera diversa per offrire i servizi lato server e lato client, ma in ogni caso sono lo stesso oggetto, la stessa piattaforma. Altri invece sono specifici lato server. Per esempio ATA, che è la sigla che vedete nel riquadro in basso, sta per Advanced Threat Analytics. Quella funzione lì ovviamente è una funzione che può essere attivata solo lato rete e prendendo in considerazione i domain controller, quella ovviamente su Windows 10 non c'è. Così come Remote Credential Guard, Credential Guard è un meccanismo che permette di proteggere le credenziali una volta che si è già in sessione. Come sapete, Windows quando io do la mia user ID e password al mattino quando accendo il computer, poi non me la chiede più durante la giornata, fino a che rimango in sessione, anche per accedere a servizi, diciamo, della rete. Questo è possibile perché c'è un meccanismo di protezione nella memoria RAM di tutto quello che riguarda le credenziali dell'utente e del computer stesso a presentarle alle risorse quando chiede l'autorizzazione ad accedere. Ebbene, gli aggressori informatici sono così bravi che riescono a compromettere anche quest'area in RAM del sistema. Quindi Credential Guard isola questa componente che memorizza le credenziali durante una sessione per impedire che vengano aggredite. La stessa cosa fa la Remote Credential Guard perché in questo caso invece di essere le credenziali locali del PC sono quelle di una sessione terminale e quindi vale lo stesso principio ma deve essere uno strumento diverso che permette di proteggere quelle informazioni. Andando avanti, parlando della sicurezza dei sistemi qui si entra più nel contesto sia dell'hardware fisico lost, sia dell'hardware virtuale, il guest. Stessa cosa infatti della sicurezza dell'hardware fisico normalmente dobbiamo vederla lato infrastruttura virtuale. Infatti vedete che ci sono numerose misure di sicurezza che sono dedicate sia alla componente fisica ad esempio anche qui Device Guard piuttosto che Control Flow Guard sono tutti oggetti, tutte funzionalità che permettono di garantire che venga eseguito sul server solo codice effettivamente autorizzato. Anche qui abbiamo ATP che è lo stesso ATP che abbiamo visto anche nella slide precedente per quanto riguarda il client solo che in questo caso riguarda il server. Invece per la parte, diciamo così, di virtualizzazione bisogna proteggere sia l'host e anche qui vedete nel riquadro in basso il discorso per esempio sull'utilizzo del TPM il discorso sull'UEFI che sono tutti elementi lato fisico ovviamente ma poi vedete che ciascuno di questi ha anche un corrispondente lato logico per quanto riguarda le macchine virtuali guest e infatti la protezione con Windows Server 2019 è stata estesa, diciamo così, end to end per garantire che una macchina virtuale sia protetta allo stesso livello di una macchina fisica anche perché la macchina virtuale è sicuramente più esposta rispetto a una macchina fisica perché essendo in pratica un file è soggetto a tipi di attacco di cui la macchina fisica potrebbe non soffrire mai soprattutto se la macchina virtuale invece di essere eseguita all'interno della rete aziendale o del data center aziendale viene eseguita da un provider o addirittura in cloud. L'ultimo livello di protezione è quello relativo al monitoraggio e al rilevamento cioè a mantenere un controllo stretto di tutte le condizioni di funzionamento della mia rete affinché possa essere sicuro al 100% sapete che la sicurezza al 100% non esiste ma diciamo attendere al 100% che tutto stia funzionando secondo la corretta impostazione dei miei sistemi aziendali e non compromessa da qualche aggressore esterno e anche in questo caso bisogna tenere sotto controllo tutti i log Sentinel che vedete lì è uno strumento cloud fornito da Microsoft su Azure che permette di fare log collection e log correlation quindi non solo è in grado di raccogliere i log ma è anche in grado di analizzarli per dare informazioni sul corretto utilizzo dei sistemi o su tentativi di accesso anomalo che potrebbero far pensare ad una aggressione. Dicevo adesso qui abbiamo fatto tutta la panoramica e va bene adesso c'è abbastanza chiaro sappiamo che la piattaforma ha delle misure di sicurezza che possono essere utilizzate per proteggersi eccetera eccetera adesso entriamo invece nell'ambito di cosa fare noi allora come dicevo il primo e forse più importante presidio per impedire le aggressioni informatiche è tenere i sistemi sempre aggiornati so per certo che i clienti non hanno apprezzato molto il cambiamento di paradigma fatto da Microsoft quando ha rilasciato Windows 10 di un rilascio di una nuova versione del sistema operativo ogni sei mesi perché? perché il ritmo era troppo alto noi eravamo abituati come vedete in questa slide vediamo sento un microfono aperto penso ci sia stato aperto per sbaglio ma se potete metterlo in muto grazie quindi dicevo come vedete eravamo abituati ad avere un rilascio ogni non so due o tre anni di una piattaforma di sistema il problema è che i cattivi non dormono per due o tre anni e quell'area rossa che vedete erano i gap che il cattivo poteva sfruttare evolvendo nelle minacce quando la piattaforma non era ancora pronta a rispondere alla minaccia che si era nel tempo evoluta ecco perché riducendo il tempo tra un rilascio e l'altro ovviamente si riduce anche scusate sono andato troppo avanti si riduce anche lo spazio lasciato all'aggressore informatico per sfruttare una vulnerabilità questa è la ragione fondamentale per cui Microsoft ha introdotto un ciclo di aggiornamenti così fitto chiaramente poi ci sono anche altre esigenze come quella di mantenere allineata l'evoluzione lato cloud e lato piattaforma on premise perché il cloud ormai è diventato una parte integrante anche di quella e il cloud evolve ogni tre mesi almeno quello Microsoft ha rilasci praticamente ogni tre mesi e anche in questo caso la piattaforma doveva seguire ma l'aspetto di sicurezza è sicuramente quello più importante per cui il ciclo che veniva chiamato appunto di Windows as a service cioè Windows che evolve nel corso del tempo come se fosse un servizio è stato introdotto in quel modo lì quello che vedete qua siccome stiamo parlando di distribuzione delle patch è una tabellina che vi permette di mettere in fila tutti gli elementi che erano coinvolti nella distribuzione delle patch allora noi possiamo utilizzare strumenti diversi ad esempio Windows Update quindi collegandoci direttamente al sito Microsoft che distribuisce gli aggiornamenti e fare l'aggiornamento vedete che esiste un Windows Update e un Windows Update for Business perché c'è anche Windows Update for Business perché gli aggiornamenti per diciamo così le aziende dovevano avere un meccanismo tale per cui se una patch non era diciamo così uscita proprio bene 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 dal laboratorio di sviluppo e quindi poteva portare dei danni se lo prende un consumer la cosa vi spiace ma ha impatti molto meno diciamo gravi che non se la prende un'azienda ecco perché Microsoft aveva introdotto in pratica due distinti circuiti uno appunto consumer Windows Update e basta e uno per le aziende Windows Update for Business per passare da un circuito all'altro è sufficiente distinguere il canale da cui prendere le singole patch adesso poi le denominazioni si sono evolute nel corso del tempo quindi ora si chiama canale mirato quello che riguarda le patch consumer e il canale normale quello che riguarda invece i business ma vabbè comunque questo da punto di vista filosofico il concetto è lo stesso però in azienda molto spesso noi non ci colleghiamo direttamente con ogni singolo PC a Windows Update ma utilizziamo Windows Server Update Services cioè in pratica quello che chiamiamo in sigla WSUS che concentra a livello di rete aziendale scaricandole una volta sola da Windows Update tutte le patch e poi le distribuisce secondo le regole che vengono stabilite dall'amministratore ai PC della rete stessa l'ultimo è Configuration Manager bisognerebbe mettere ormai Microsoft Endpoint Manager perché Configuration Manager si fonde con Microsoft Intune che invece è il servizio cloud che fa le stesse cose e diventa Microsoft Endpoint Manager ma ho lasciato Configuration Manager proprio per distinguere il fatto che stiamo parlando dell'aspetto on premise della distribuzione delle patch per poterlo comparare con il WSUS vedete nelle quattro colonne quali sono le opzioni che sono a disposizione per i singoli metodi di distribuzione delle patch quindi il differimento degli aggiornamenti la possibilità di approvare o meno gli aggiornamenti da distribuire i protocolli di distribuzione che sono particolarmente importanti in azienda perché distribuendo delle patch molto grosse ormai da anni le patch Microsoft sono di tipo cumulativo quindi crescono nel corso del tempo distribuendo delle patch molto grosse è facile arrivare a consumare tutta la banda di rete disponibile quindi ci sono dei meccanismi di controllo che permettono di impedire che questo avvenga tra questi diciamo meccanismi di controllo abbiamo anche oltre a delivery optimization che è appunto il controllo della banda la possibilità di indicare ai sistemi che la distribuzione delle patch soprattutto negli uffici remoti invece di avvenire sempre da un punto centrale può avvenire attraverso meccanismi di peer networking cioè la prima macchina che si scarica la patch in locale poi la distribuisce a sua volta alle macchine della stessa rete bisogna fare un piccolo sforzo di configurazione piccolo se la rete è piccola più grande se la rete è grande però questo consente di risparmiare banda in maniera abbastanza significativa e ovviamente man mano che vado avanti con gli strumenti le prime tre righe sono gratuite configuration manager bar employee manager ovviamente è a pagamento ho delle opzioni in più che posso sfruttare e quindi naturalmente farò un ragionamento se vale la pena spendere dei soldi per ottenere quelle funzionalità le grandi aziende ovviamente sì nel senso che loro adottano strumenti di gestione di questo genere per le piccole piccolissime piccole o medie aziende bisogna lavorare appunto per vedere se il gioco vale la candela e l'investimento ha un senso una volta comunque che abbiamo deciso qual è lo strumento la modalità attraverso la quale si distribuiscono le patch fin da quando è stato rilasciato Windows 10 normalmente si appoggia sul concetto dei ring cosa vuol dire vuol dire che io definisco dei gruppi di macchine all'interno della rete chiaramente se la rete è molto piccola 5-6 macchine ha poco senso questa cosa magari faccio un test su una macchina vedo che le patch funzionano le distribuisco su tutte ma se le macchine sono parecchie tipo non so 100 200 1000 10.000 non lo so conviene creare dei gruppi più o meno omogenei i primi saranno quelli che riceveranno le patch per primi quindi a questo punto quello che qui abbiamo chiamato ring 0 vabbè laboratorio ma ring 1 e ring 2 potrebbero essere quelli a cui io applico le patch per primi perché sono quelli magari meno critici e se anche dovesse nascere qualche problema siamo in grado di recuperare facilmente senza incorrere in guai più grossi quando sono sicuro che tutto quanto è a posto passo ai ring superiori e allora distribuisco massivamente le patch a tutti questo grafico in pratica tenta di rappresentare quello che appena detto nel primo ring io distribuisco le patch e verifico se tutto funziona bene ok se invece qualcosa non funziona bene fermo tutto sapete che le patch possono essere comunque sempre essere messe in pausa fermo tutto e aspetto di vedere se Microsoft risolve il problema man mano che vado avanti posso applicare lo stesso criterio e ho sempre la possibilità di fermarmi prima di fare guai più rossi nel momento in cui ho verificato che tutto funziona bene allora sarò sicuro che non ci sono guai e posso posso andare avanti fino alla fine chiaramente prima mi accorgo che qualcosa non è andato bene meglio è e quindi prima posso mettere un freno alla distribuzione delle patch come si gestisce la distribuzione delle patch soprattutto per quanto riguarda Windows Update Windows Update e Windows Update for Business con le Group Policy in realtà le Group Policy sono utili anche quando si utilizza WSUS e in parte anche con System Center Configuration Manager anche se ovviamente con Configuration Manager Bar and Point Manager ho delle opzioni in più che derivano proprio dallo strumento che utilizzo queste sono da un lato le Group Policy da utilizzare per quanto riguarda la distribuzione delle patch e la costruzione dei ring per ogni ring farò una Group Policy con un'impostazione propria e raggrupperò le macchine a cui il ring cioè le macchine che appartengono a quel ring attraverso le Organizational Unit o i gruppi di Active Directory se invece devo controllare il consumo di banda le patch il consumo di banda delle patch la chiave di registro da andare a modificare viene gestita le chiavi di registro vengono gestite da questa Group Policy e quindi io applicherò centralmente le regole che permetteranno di non saturare mai la banda passante utilizzando uno dei vari metodi che sono a disposizione in queste in queste Group Policy le Group Policy sono forse lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per gestire la rete e il comportamento desiderato sia dei PC che degli utenti infatti è attraverso le Group Policy che si gestiscono tutti questi elementi ad esempio se nella mia rete ci sono macchine ancora antiquate purtroppo alcuni protocolli molto vecchi devono ancora rimanere vivi ma sappiamo che questi protocolli sono intrinsecamente non sicuri quindi dobbiamo stare molto attenti a garantire che ci sia un monitoraggio costante del funzionamento della rete se però io ho macchine più aggiornate ad esempio server 2016 2019 e macchine tutte client macchine client tutte Windows 10 allora posso anche permettermi di disabilitarli proprio questi protocolli una cosa che è disabilitata non fa male mantenere sempre attivi i meccanismi di controllo anche dell'utente quindi lo user access control piuttosto che gli user rights controllare il più possibile l'uso delle applicazioni ci sono delle group policy che sono dedicate proprio a garantire l'esecuzione solo di applicazioni consentite l'attivazione forzata di un firewall e quindi anche l'impossibilità per l'utente di togliere determinati tipi di protezione tutto questo si fa attraverso le group policy chiaramente bisogna anche poi vedere fino a che livello si vuole arrivare ad esempio si vuole controllare anche l'utilizzo delle pennette usb o di dispositivi esterni ci sono delle group policy che permettono di fare anche quello piuttosto che si vuole impedire che un utente abilitino o meno determinati tipi di utente sulla sua macchina ad esempio il guest si può fare anche quello non si vuole che gli utenti siano amministratori locali della propria macchina questa è cosa buona e giusta si può impedire anche quello se una macchina pc client appartiene a un dominio e soggetta alle group policy io tramite le group policy posso fare tutte queste cose compresa la gestione anche dei log per poter fare un audit a posteriori uno dei meccanismi che è balzato alla ribalta più recentemente è comunque quello della scrittografia anche a causa del fatto che con l'ingresso diciamo così nelle nostre vite del GDPR il discorso della crittografia ha assunto una risonanza che precedentemente non aveva devo dire che anche il livello di comprensione è rimasto basso non solo la risonanza che aveva prima il GDPR perché non è che il fatto che il GDPR parli di crittografia vuol dire che le persone che devono decidere se adottarla o meno sappiano di cosa stanno parlando io quello che vi posso dire è che la crittografia è un'arma a doppio taglio nel senso è utile anzi indispensabile per certi versi ma se mi perdo o la gestisco c'è un altro microfono attivo se mi perdo le chiavi di cifratura o la gestisco in maniera diciamo non ottimale c'è il rischio che io stesso che sono il legittimo proprietario di un dato rimanga escluso dal dato stesso quindi bisogna usarle con grandissima precauzione con grandissima attenzione e prudenza però 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 vanno usati BitLocker è uno strumento che ormai è disponibile su tutte le versioni di Windows 10 dalla home fino all'Enterprise 5 e consente di proteggere sia il disco locale della macchina quello fisso quello interno ma anche attraverso la sua estensione che si chiama BitLocker to go anche le penne usb che voi potete utilizzare o i dischi esterni che voi potete utilizzare per ospitare informazioni quindi non c'è ragione per non utilizzarla è gratuita è compresa nella piattaforma salvo il fatto che come ho detto va usata con grande prudenza e attenzione è la soluzione giusta allora per quanto riguarda i requisiti li vedremo in una slide successiva però se lo vogliamo usare a livello locale l'unica cosa che ci interessa e quindi non gestire centralmente l'unica cosa che ci interessa è il fatto che ci sia il TPM sulla motherboard del nostro PC perché il TPM che sta per Trusted Platform Module è l'oggetto che diciamo costodisce protegge le chiavi di cifratura i certificati digitali eccetera 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 in modo sicuro e quindi quello è uno degli elementi sia pure non indispensabile ma che conviene avere assolutamente a bordo dopodiché però se io voglio gestirlo centralmente ho diversi strumenti da Active Directory pura senza nessun diciamo strumento addizionale e con strumenti addizionali che mi permettono di fare un deployment controllato mirato gestito del BitLocker su tutte le macchine aziendali dal punto di vista poi delle modalità di utilizzo posso come dice l'ultima riga usare le group policy per controllare come viene utilizzato il BitLocker se vogliamo fare una adozione generalizzata e controllata centralmente questi sono i requisiti ci deve essere sulle macchine client il TPM 2.0 le macchine devono avere l'UEFI abilitato e bisogna usare una configurazione del disco che deve essere di tipo GPT e non MBR una configurazione del disco che ha una prima partizione di tipo FAT32 non cifrata dove vengono messi i file di avvio e un'altra partizione NTFS invece cifrata dove vengono messi i file di sistema e tutti i dati bisogna poi gestire la recovery key perché come tutte le operazioni di cifratura hanno una sorta di uscita di servizio di sicurezza per poter recuperare i dati in caso di smarrimento ma questa va gestita in maniera molto 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 attenta e precisa nel caso di BitLocker c'è sia la recovery key che la recovery password sono due cose distinte io posso decidere quale di queste adottare per la mia per la mia rete per poterlo amministrare abbiamo detto prima di tutto le group policy ma poi ci sono dei tool specifici che si trovano nel gruppo di 27 diversi strumenti che fa parte del remote server administration tool un kit che potete installare sia lato server anzi lato server è già installato va solo attivato ma anche lato client su windows 10 per poter amministrare un server windows server 2019 dopodiché se ovviamente voglio automatizzare le operazioni posso usare sia la powershell sia alcuni comandi che fanno parte diciamo così del set di base che sono bde hd cfg che serve per configurare il disco come abbiamo detto prima con la partizione fatta e la partizione ntfs corretta e poi manage bde con tutti i suoi switch che permette di controllare l'esecuzione lo stato eccetera eccetera del mio bitlocker per gestirlo centralmente posso usare come abbiamo detto configuration manager o intune quindi endpoint manager come strumento centralizzato ma posso usare anche degli strumenti gratuiti che sono i windows deployment services e il microsoft deployment toolkit che permettono appunto di ottenere una funzionalità decisamente valida anche senza essere a pagamento per quanto riguarda una sorta di how to o comunque di step by step di ciò che bisogna fare per l'uso aziendale di bitlocker la prima cosa che bisogna decidere è quali sono i componenti da proteggere io non so a priori come possono essere configurati i pc degli utenti possono avere una partizione unica possono avere più partizioni possono essere più recenti meno recenti eccetera quindi ho bisogno di fare un'analisi di tutti i dispositivi per rapportare diciamo la compatibilità di questi dispositivi con le modalità di protezione che ho definito una volta che ho fatto questa analisi preliminare sceglierò gli strumenti da usare per fare il deployment di bitlocker se l'azienda è piccola e non ha possibilità di spesa probabilmente mi accontenterò di utilizzare gli script le group policy e magari l'MDT però già questo MDD sta per Microsoft Deployment Toolkit con i Windows Deployment Services però questo già richiede un effort un po' più alto altrimenti potrò adottare gli strumenti più sofisticati come Employment Manager per fare questo discorso per quanto riguarda le cose da gestire come dicevo poc'anzi bisogna gestire la password di recovery o la recovery key in modo tale che siano archiviate in maniera sicura e disponibili nel caso ci siano problemi ad accedere a determinate macchine perché magari l'utente si è dimenticato il proprio codice o la chiave non viene più ritrovata eccetera eccetera e dobbiamo anche stabilire quando siamo autorizzati a dare all'utente le informazioni che gli permettono di recuperare i propri dati su disco perché è questo? perché esistono dei tipi di attacco quelli che vengono chiamati di social engineering dove l'aggressore si spaccia per essere l'utente legittimo e si fa dare da un operatore di al desk ad esempio per telefono o comunque in qualche modalità diciamo nascosta non trasparente si fa dare le informazioni che servono per accedere alle informazioni del nostro utente ecco questo per poter essere impedito ci vuole la definizione a priori di alcuni criteri che permettono di garantire che chi chiede il ripristino sia effettivamente chi ha il diritto di poterlo fare in più siccome se ci sono dei dati cifrati e questi dati devono essere ripristinati da qualcuno che fa parte dell'help desk bisogna anche dare le autorizzazioni corrette questo anche a fini GDPR per poter accedere a quelle informazioni perché un operatore di al desk sicuramente non è un incaricato per il trattamento dei dati di tutti gli utenti che possono lavorare all'interno dell'azienda quindi delle policy che permettono di controllare chi nell'organizzazione ha accesso ai dati di recupero devono essere definite infine siccome il bitlocker rimane comunque sulla macchina quando i pc devono essere dismessi ci vuole una politica di dismissione controllata delle macchine stesse come vedete ci sono un sacco di considerazioni che si devono fare ma non c'è niente di particolarmente complicato e questa guida sia pure banale e sintetica delle cose da considerare credo che possa esservi utile ci sono diverse opzioni per il bitlocker io qui ve le ho elencate tutte adesso commentarle tutte potrebbe essere un po' lungo comunque di fatto sono da distinguere tra il boot se io voglio che il boot avvenga in maniera diretta senza chiedere niente all'utente in questo caso la protezione si ottiene solo se il disco viene tolto da quella macchina per essere messo su un'altra macchina invece se io voglio una protezione anche locale chiedo che ci sia un pin di ingresso quindi quando la macchina si accende non mi fa partire il sistema fino a quando io non metto un pin per poter arrivare a vedere il sistema operativo ci sono anche altre due modalità che però vengono usate solo ed esclusivamente in condizioni particolari ad esempio la network chi permette di accedere se il pc è collegato alla rete locale aziendale e non wifi deve essere la rete cablata in quel caso la chiave di accesso viene memorizzata su un server e quindi quando parte il sistema sa che deve andarla a cercare lì oppure la startup key che invece viene messa su una chiavetta e io per poter far partire il pc devo inserire la chiavetta attivarlo e quando il sistema parte va a cercare lì la chiave di boot avevo detto che non le commentavo tutte ma alla fine le sto commentando tutte comunque recovery password e recovery key sono i due metodi che si possono utilizzare per un recovery anche offline ed è quello che normalmente si fa quando si fa un deployment massivo di bitlocker se le macchine sono cablate e stanno sempre in rete si può adottare anche il network unlock che ovviamente dal punto di vista dell'utente è più semplice però richiede appunto che la macchina sia collegata per quanto riguarda le opzioni di cifratura io posso decidere di cifrare solo lo spazio disco utilizzato questo ovviamente permette di ottenere un processo di cifratura più rapido soprattutto delle macchine che sono già state sono già in utilizzo e le voglio cifrare a posteriori oppure il full disk in questo caso ci vuole più tempo però ovviamente ottengo un disco cifrato completamente già in partenza per attivare il bitlocker su pc già in produzione quindi su un pc che è già in mano a un utente e noi vogliamo che venga cifrato da un determinato momento in avanti queste sono le group policy da impostare ovviamente non è che semplicemente guardando l'albero della group policy uno ha già capito che cosa deve fare infatti sotto come vedete vi ho lasciato il link al documento Microsoft sul web dove potete trovare tutte le indicazioni per poter sfruttare appropriatamente queste group policy per quanto riguarda le considerazioni o le modalità con cui attivarle questa è una sorta di step by step prima di tutto bisogna fare la preparazione di adi in modo tale che sia pronta a gestire bitlocker le group policy necessarie gli rsat per poter gestire gli aspetti legati a bitlocker le deleghe per poter accedere agli oggetti di active directory dai vari pc che stanno sulla rete e che poi devono essere protetti attraverso bitlocker una volta che le group policy sono pronte devo preparare la struttura di OU in modo tale da poterci mettere dentro i pc e assegnare le group policy corrette una volta che i pc sono dentro gli oggetti computer sono dentro nelle group policy e le group policy sono state applicate a quel punto prendono la group policy viene preparato l'ambiente per poter eseguire la cifratura e a quel punto tramite uno script PowerShell o con Manage BDE posso forzare la cifratura della macchina anche questa è una procedura che è spiegata nel link che vedete sotto per quanto riguarda invece il deployment di macchine già crittografate quindi macchine che arrivano nuove e che quando vengono consegnate all'utente hanno già bitlocker attivo allora in quel caso se noi abbiamo una struttura che permette di distribuire le macchine il sistema operativo sulle macchine io posso già fare questa operazione prima che vada in mano all'utente che cosa devo stare attento beh devo controllare gli aspetti di prerequisito quindi se c'è il TPM se l'UE fiabilità eccetera eccetera a quel punto se ho già preparato AD con le group policy necessarie come abbiamo visto nelle slide precedenti non faccio altro che installare gli strumenti di amministrazione specifici di bitlocker gli rsat eccetera eccetera installare sulle macchine della mia rete quelli di deployment abilito il windows deployment services abilito l'mdt preparo un'immagine e poi configuro sull'mdt una task sequence cioè una sequenza di operazione automatizzata che permetterà di ottenere il deployment di bitlocker una volta che il bitlocker è stato attivato quando io lo congiungo alla rete e prende le policy verrà scatenato lo script che permette la cifratura del disco e quindi io consegnerò all'utente un pc già pronto per essere utilizzato infatti nella attivazione del bitlocker come dicevo c'è la fase questa è l'attivazione diciamo fatta in automatico da parte di mdt c'è nella task sequence la parte di pre-provisioning dove io preparo la macchina all'attivazione del bitlocker e richiede ovviamente il tpm questo avviene prima dell'installazione nella fase precedente all'installazione poi c'è l'installazione del sistema operativo e nella task sequence c'è la join al dominio la join al dominio permette di prendere le policy tramite le policy io farò il salvataggio della recovery key e poi lancerò la cifratura secondo la modalità che ho scelto solo lo spazio utilizzato o tutto il disco riassumendo quindi riassumendo Windows è già progettato per tenere conto di tutte le esigenze di sicurezza sia lato client che lato server come abbiamo visto ci sono tantissime misure che permettono di partire con uno zoccolo duro sicuro e le misure che io posso applicare on premise possono poi essere integrate potenziate anche da misure che posso diciamo utilizzare in cloud e questo aumenta parecchio la sicurezza intrinseca della mia piattaforma importantissimi sono gli strumenti che uso per tenere da un lato la piattaforma sempre aggiornata e dall'altro sotto controllo il comportamento degli utenti e delle mie macchine quindi qualunque sia lo strumento che ho scelto che sia vSUS che sia endpoint manager che sia anche solo windows update lo devo controllare in maniera attenta e utilizzo le group policy per fare diciamo una impostazione preventiva di quale deve essere il comportamento voluto bitlocker come abbiamo visto nella parte finale della sessione è uno strumento particolarmente importante particolarmente significativo e anche utile in un contesto dove bisogna essere conformi anche a delle normative particolarmente stringenti per rimanere comunque sempre aggiornati il mio suggerimento è di rimanere sempre collegati con i siti web di microsoft sia quello diciamo così più chiamiamolo commerciale che è il primo link sia quello più tecnico che è il secondo link e per quanto riguarda invece c-computer io ovviamente penso che ciascuno di voi sia interessato a rimanere sempre aggiornato a livello di corsi disponibili delle comunicazioni tecniche che possono arrivare da c-computer stessa degli aggiornamenti sui vari prodotti perché sappiamo che questo è un settore in cui la tecnologia cammina velocemente allora il suggerimento che vi posso dare è di completare il proprio profilo utente sul sito di e-commerce di c-computer andate sul sito selezionate la componente e-commerce fate logon al sito stesso e a quel punto andate nel vostro profilo e compilate completamente le informazioni altra cosa che vi suggerisco di fare è quella di prendere contatto con il vostro commerciale di riferimento e verificare che abbia tutti i riferimenti corretti che siano telefonici che siano di e-mail delle singole persone chi si occupa della parte tecnica chi si occupa della parte commerciale eccetera eccetera perché in questo modo faciliterete la capacità di c-computer di comunicare con le persone giuste le informazioni giuste con questo io ho finito sono andato anche un po' più lungo perché ho parlato per un'ora invece che 50 minuti come pensavo però avete visto che i contenuti sono molto densi quindi aprirei la sessione domande e risposte e chiederei a Matteo se sono già arrivate delle domande mentre parlavo allora grazie Walter sei stato tra l'altro molto molto esaustivo allora c'era una una considerazione più che una domanda indietro Paolo ti scrive per la protezione dell'identità anche se le credenziali anche se le credenziali sono memorizzate sul dispositivo si configura comunque un trattamento dei dati di carattere biometrico che richiede una dpia no la risposta è no questa cosa è già stata smarcata non c'è nessuna dpia da fare perché se viene rubato il pc il dato biometrico non è intellegibile nessuno può andare a vedere che cosa c'è lì dentro quindi non c'è nessun rischio di riconoscere l'utente tramite il dato biometrico questa cosa è già stata smarcata da Microsoft anche con le autorità ed è ok Paolo sottolinea mi riferiva a Windows Hello sì sì quello lì così non c'è nessun modo di recuperare l'informazione biometrica anche se io rubo quel pc siccome non è memorizzato in nessun database quel pc lì da solo non contiene nulla che possa fare salire all'utente per cui il dato biometrico non è non compromette diciamo così il l'identità dell'utente bene poi c'era vabbè c'era una domanda di servizio che c'è un utente che chiede se la sessione sarà registrata sì questo l'abbiamo detto all'inizio però se lui si è collegato lo dico lo dico comunque per tutti quelli che si sono collegati dopo chi magari è intervenuto in ritardo riceverà la mail da si computer con la registrazione dell'evento e presumo anche il pdf della presentazione sì sì esatto è così ok non ci sono ah è arrivato uno adesso per la raccolta e la gestione dei log di audit su server e client che strumenti si possono usare allora qui si apre un mondo intero nel senso la piattaforma da sola non riesce a fare molto nel senso che è possibile fare il cosiddetto log shipping tendenzialmente sul server perché sui client non penso che nessuno di noi voglia fare un discorso del genere ma comunque si può spedire il log ad una macchina che li concentra a tutti il problema è che poi quei log lì se non hai uno strumento per poterli integrare leggere e correlare tra loro è praticamente inutile per fare questo mestiere ci sono degli strumenti appositi io ho citato durante la presentazione Azure Sentinel per un motivo molto semplice perché essendo un servizio cloud permette di essere pagato per l'utilizzo che se ne fa altrimenti bisogna comprare delle piattaforme intere cito ad esempio Splunk che può essere una piattaforma che avete sentito nominare ma ce ne sono un'infinità che permettono di fare log collection log correlation e danno anche a disposizione delle dashboard comunque delle console che permettono poi di vedere che cosa è successo questo per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza se invece il discorso di log e di audit era più legato ad aspetti operativi come ad esempio fare troubleshooting di problemi in quel caso la raccolta centralizzata è di poco poca utilità perché se il problema è puntuale e si trova su una macchina conviene lavorare direttamente sui log di quella macchina lì come dicevo è più un discorso legato alla security allora in quel caso ci sono strumenti ad hoc che permettono di farlo è arrivato un'altra domanda che è molto interessante per quello che lascia intravedere che è il rapporto tra sicurezza e comodità la domanda è posso lasciare il boot senza pin o il DCPM privacy mi obbliga a impostare un pin ad ogni boot allora il GDPR richiederebbe che ci sia il pin perché se ti rubano il disco tu pin o non pin sei protetto ma se ti rubano il pc chiunque può accenderlo e arrivare almeno alla schermata di logon e a quel punto se la password le modalità di accesso non sono particolarmente forti e uno riesce anche semplicemente con un attacco a forza brutta tentando ripetutamente di forzare l'account riesce a entrare lì il bitlocker non ci può più fare niente come se fosse l'utente legittimo quindi bisogna prendere delle precauzioni a priori il pin sarebbe una di queste e poi anche configurare la macchina perché ad esempio si protegga davanti a tentativi di attacco come quella a forza brutta dove per poter individuare la password magari ci vogliono 100 1000 10.000 tentativi magari impostare l'utenza in modo tale che dopo 8 tentativi si blocchi e non permetta più l'accesso comunque il pin sarebbe cosa buona e giusta dal punto di vista del GDPR e poi c'è un'altra domanda mentre per il network key network key e network password sono le due modalità ah no pardon stavo pensando alla recovery key e recovery password la network key è in pratica utilizzabile si può configurare il sistema di BitLocker per avere la chiave sul server il che significa che se la macchina è collegata ma ripeto deve essere collegata in maniera cablata non va bene se è collegata in wifi se è collegata in maniera cablata la protezione è equivalente a quella del pin perché se io rubo la macchina e me la porto via il disco non sarà possibile accedere perché devo essere sulla mia rete per poter vedere il network key la network key è un buon compromesso ma ovviamente dei prerequisiti la macchina deve essere in rete aziendale e deve essere cablata poi c'è un'altra postilla e quindi non sarebbe possibile far reboot da remoto assolutamente no deve essere lì fissa i clienti con cui ho lavorato fino adesso e che hanno adottato bitlocker nessuno ha usato la network key tanto per dirne una ok continuano le postille perché più che domande sono più più che altre considerazioni sulle tue risposte chiaramente presumo che la network key sarebbe accessibile in che senso non capisco cosa voglia dire l'utente non la può leggere lo fa dire direttamente il sistema nel momento in cui viene attivato interroga il server e il server gli dà la chiave fine non è accessibile non la può vedere nessuno questa non l'ho capita anch'io e continua se il suo utente è sempre Paolo che continua quindi in un'eventuale intrusione potrebbe essere rubata no come possono rubarla ogni singolo pc ha la sua chiave se il pc quando lo accendo è nella rete aziendale interroga il server il server gli restituisce la sua chiave lui può accendersi se invece il pc viene rubato non si può fare niente se qualcuno aggredisse il server si troverebbe l'elenco di tutte le chiavi ma senza sapere a quali pc sono assegnate quindi dovrebbe avere il controllo completo di tutta la rete e ragazzi se ha il controllo completo di tutta la rete non è un problema di chiavi è un problema molto diverso ah sì Paolo sottolinea che mancava il punto interrogativo nel senso che forse l'ho letta male perché era una domanda non era una considerazione ma era una domanda spero di avere risposto comunque sì penso che non ci siano altre domande perché non ne vedo altre allora tra l'altro mi sento anche di fare i complimenti a Walter perché ha fatto una presentazione di un'ora intera senza senza battere ciglio Walter sei ancora un giovanotto eh sì un giovanotto di 60 anni certo e quindi se non ci sono altre domande ricordo che se ci sono altre domande comunque poi potete rivolgervi a Ccomputer per quanto riguarda eventuali domande in un secondo tempo mi raccomando aggiornate i vostri dati perché così facendo potete rimanere sempre 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 in contatto e avere tutte le informazioni più up to date rispetto sia a quello che offre Microsoft ovviamente ma anche rispetto ai prodotti specifici di Ccomputer va bene diciamo che abbiamo finito siamo ai settori di coda penso di sì facciamo come il banditore d'asta non ci sono domande uno non ci sono domande due non ci sono domande tre vabbè ti arrivano i complimenti Walter per cui insomma la gente si sta scollegando per cui penso che possiamo possiamo chiudere grazie dei complimenti quelli fanno sempre comunque piacere grazie a tutti